Lo più importante sono i tre punti, che per noi era molto necessario. Credo che la squadra abbia fatto una grande prestazione e questo è l'importante. Abbiamo fatto una partita di gruppo, una partita unita. Credo che non le abbiamo dato l'opportunità a loro di poter fare qualche punti e questo è l'importante. Allora tocca descansare perché la domenica per Sky teneremo una partita molto difficile che va a essere molto complicata e l'abbiamo a dare l'altro tre punti per casa. Un abbraccio. Lupo. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere perché per noi oggi l'unica cosa che contava era riprendere la marcia che purtroppo avevamo lasciato nelle ultime settimane, un po' per tutte le cose che sono passate, però credo che al di là del risultato l'abbiamo fatto anche bene. perché comunque il Mielina è una squadra che se la tiene in partita comunque in questo campo è difficile affrontarla. Per noi siamo stati lucidi, sono anche contento perché questo premia il lavoro della squadra aver fatto tre o quattro cose su palla ferma. Quindi adesso sapevamo che per noi oggi l'unica cosa che contava era far punti. Adesso dobbiamo lavorare, riprendere la nostra marcia e già pensare alla partita di Pomezia perché così come abbiamo fatto tanto, perché per noi questa è una partita che forse valeva anche una stagione. Così sappiamo che non abbiamo fatto nulla perché se vogliamo riprendere la scala della classifica dobbiamo farlo già dalla partita di saputo prossimo con il Pomezia. Penso che oltre ai tre punti ci portiamo delle certezze che dovevamo ritrovare che dopo la prestazione che abbiamo fatto questa settimana in Coppa Divisione avevamo deluso soprattutto noi stessi e oggi dovevamo riprendere quello che siamo, penso che lo abbiamo dimostrato e dobbiamo continuare per questa strada e cercare di crescere sia come squadra, come gruppo per arrivare ai traguardi che ci siamo prefissati prima di iniziare la stagione. Un invito ai diffusi per domenica? Penso che sarà una partita per noi fondamentale, una squadra neopromossa ma di altissimo livello con giocatori di qualità quindi spero che ci siano come le partite che abbiamo giocato in casa che sono state di grande aiuto per diverse situazioni, non siamo potuti stare tutti in campo per diversi episodi e adesso possiamo ritornare e quindi abbiamo bisogno del nostro stesso uomo in campo nella prossima partita in casa. Grazie a tutti!